quanti ne devo uccidere per curiosità perché non vedo una vera differenza ciao mago almei è in pronto ti manca a di lì ti manca o sei tu preso ok gont sei pronto a morire oh che cazzo muori yes yes dove l'altra sopra ed eccomi sto arrivando baby ah ce n'è anche uno qui sotto quanti sono ok finiti allora gont si gont di shabby booo gaunt get rekt un totale fraude il microfono è un tipo di auto-tuner ok mamma mia can't stop won't stop disattiva il coso di gont dove devo andare ah di lì allora minchione cazzo 1 2 3 fatto grande poi ok ci sono manometti manometti boop 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 allora stronzo boom 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 yes super calcio baby dove sei becca del calcio yo di nuovo oh la madonna oh la madonna oh cazzo 2 3 4 si ce l'ho fatta finito we hate you gont can't stop won't stop ah ah stronzo can't go can't go oh hai distrutto la tua statua d'oro ciccio oh che bello no però lo volevo testare io personalmente guarda guarda abbiamo gont ah 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 missione compiuta raga son salita un po'? oh minchia not bad not bad not bad proprio oh 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 e questo? Aisha can you hear me? good are you ready? stilto e sa puttanella? ma che diavolo è? non so non so cosa hai hai ok saliamo di livello e devo tornare all'arca immagino si agenzia livello 11 minchia ok direi che è ora di salire di livello quindi squadra no vediamo cosa c'è nell'inventario tecnologia di gremlin ah ok nuove robe che però non mi servono a pippa minchia un botto di nuclei di potenziamento che non me ne faccio una pippa però ok squadra si raffreddiamo sempre l'arma che è la cosa più intelligente da fare tu invece continua con no cazzo continua con capo sfondamento e tu invece cos'è che hai di bello più 5% di effetti danno nel tempo riduzione del tempo di detonazione trappola danni punto debole ah hmm danni punto debole va fai headshot potenziamento del nu eh vabbè diamotelo raga cioè c'è un botto di potenziamenti anche tu sei piena che ti rimane ah gadget nuovi allora i colpi del mini grande daisy hanno 25% probabilità di infliggere indebolimento a nemici ok contro focalizzare maggiormente l'obiettivo non lo so si no proviamo questo calore in gabbia questo invece ricordandosi di quando erano ragazze spericolate invincibile daisy ottiene un potenzialmente della salute no 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 meglio l'altro meglio l'altro decisamente poi rama invece cosa c'hai di nuovo niente va bene eeeh ok nulla basta torniamo sull'arc Katmandu Tijuana Helsinki Bangkok just cause a city has a funny name doesn't mean the cops there have a sense of humor grande bel consiglio maian bel consiglio allora non mi ricordo come si potenziava la la base qui in operazioni no si stato agenzia livello agenzia posso reclutare più agenti giul red car doni braddock attiva i punti di teletrasporto ok fortune fai salire di livello va bene fai una rinque di seul va bene come come faceva salire il livello dell'agenzia chi cazzo se lo ricorda adesso vediamo un po' ma qui dentro cos'è cosa c'è qui dentro archivio mayhem no di là banco richieste potenze agenzia ecco dove era questi li ho acquistati e questo livello agenzia 10 quindi posso acquistarli vediamo combustibile già sperimentale vabbè la doppia la cosa permette di raccogliere bottine salute in una distanza maggiore ok questo si perché è una rottura di coglioni sempre andare verso le cose per cercare di raccoglierle aumenta gli exp ottenuti ovviamente il primo diminuisce i costi di ricerca per le tecnologie gremlin che non me ne sbatte però molto direi di no direi che per ora non me ne sbatte quasi nulla contenuto che incassa denaro si no ok no niente non c'è denaro da incassare grazie raga allora però avevo una cosa una cosina no no niente scherzavo no niente va bene allora andiamo a vedere la prossima missione di cosa si tratta ovvero ovvero yes questa qua operazione dimensioni ninja oppure potrei reclutare altra gente tipo jule o no questa l'ha già fatta da da daisy posso reclutare jule e direi di si andiamo a reclutare jule eccola qua la skin nuova dell'arco colpo divino oh che fico yes subito però non mi danno bonus le skin vero o sbaglio no non c'è scritto un cazzo va bene nessun bonus quindi già no sono uscito che idiota eccola qua schiera lanciamoci belle voglio vedere daisy che cavalca il suo minigun è troppo fica guardala ti giuro guardala sta cavalcando il suo minigun ma è bellissima ma è una cosa stupenda non ho mai visto niente di più fico boom oh yes benissimo dirigiamoci subito verso la missione yes e vediamo di cosa si tratta questa missione di reclutamento per joul o joul non ho mai capito come si pronuncia in realtà quel nome se è joul o joul perché ci sono due 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 pronunce forse è solo una è quella francese ma mi rifiuto di pronunciare cose in francese perché odio il francese come tutti del resto chi ama il francese anzi facciamo così chi ama i francesi già nessuno già reclutiamo joul indagine speciale joul joul whatever va bene andiamo a cercare queste armi ciccio sono con te per ora oh cazzo wow eccola qua già trovata vedi che casino che ti creo appena esco fuori da questo da questo coso no non c'è niente lol oh ma era sotto ma che palle no era sopra che minchia sta facendo non so cosa sta facendo raga ok adesso cosa devo trovare ti rompi la raffica di ghiaccio ho capito ma oh oh no ma non so dove devo andare va bene mi rilancio di sotto ma scusate ma cosa cosa cazzo sta succedendo sono io che sono pazzo o no oh hey skin veicolo interrompi la raffica di ghiaccio va bene va bene quindi devo andare di qua no interagisci quindi interagisco poi mi manda su e poi mi dice no vai 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 di sotto che cazzo succede gioco ah ok è figa prima non mi dava questo punto va bene facciamo finta di nulla ah devo distruggerlo ok distrutto oh hey this is very interesting data here now go take out one of those strange hate machines they have if I'm correct this isn't just legion technology after all yes andiamo cazzo questi cosi devo distruggere ah questo coso ok fatto umberto bellini dove cazzo vai macchina ti ho detto di venire qua non di fare la minchia che volevo va bene andiamo curva perfetta ragazzi la derapata ormai è uno stile di vita per me yes usa il rivelatore c'è lì va bene pip 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 basta allora eccolo lì oh shit che male dove siete ah eccovi eccovi stronzi ok ok siete tutti morti adesso come lamentiamo ah ma siete qua voi te ninja della minchia muori grazie ok ok dov'è il leader ah è lì sopra ok l'ho visto ci sono quasi ci sono quasi muori muori oh no e dai pensavo di non averlo ancora ucciso oh che cazzo va bene dai ok va bene così questo è uno maiemmato adesso che sbatti ah non è giusto non è affatto giusto entriamo nel covo di legion va oh shit davvero cos'è ok siete pronti ninja vieni qua che bello viene crivellata di colpi come una come una oh wow 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 ehi non vi avevo visto voi e sparo tanti così tanti colpi che non riesce neanche più a mirarmi oh no invece si ci riesce ma di prima non ci riusciva tu devi essere il capo ninja ok sempre avanti sempre dritto quale comandante legion ah questo maiam baby oh mio dio mi è pure glitchato l'audio muori maiam anche tuo yes 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 uh chi rimane nessuno oh nessuno da tutti morti lol ciao che pipponi raga rilevamento avanzato rivelamento io non so perché non sono in grado di parlare ah fatto fatto sbaglio oh 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 ninja cosa fai mi sembra il caso let's go ciao pipponi ti ho distrutto mission accomplished oh yes ma non ho sbloccato jule o jowl ok si dimmi prego non c'è di che benissimo cavalloni la prossima volta andremo a distruggere di nuovo le forze malvagie di non mi ricordo come si chiama l'organizzazione malvagia ma sti cazzi c'è no invece no c'è da prendere jule no 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 wait 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 andiamo fino a là perché voglio vedere questa 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 cosa voglio vedere questa missione di jule yes stavano glitchando male quelle auto sbaglio perfetto siamo qui davanti e la prossima volta inizieremo la missione di jule e la sbloccheremo e speriamo che sia una gran figa come daisy ma probabilmente no perché non c'è nessuno migliore daisy va bene ciao cavalloni alla prossima woo ciao 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 ciao